Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di un filato che in un certo senso possiamo definire un classico senza tempo. Perché? Perché fa parte del nostro catalogo Tessiland da sempre e continuerà ad esserlo per sempre. È un filato che è il risultato di una ricerca compiuta nei nostri laboratori. Un filato fatto quindi in Italia e in esclusiva per Tessiland e ispirato ai cordini thailandesi. Un filato di un comfort e di una lavorabilità davvero incredibile. Se state quindi cercando un cordino, un filato per borse o accessori, il migliore in commercio sicuramente lo avete trovato. Analizziamo insieme il Thai sublime. Ecco qui il nostro Thai sublime, questo 100% made in Italy, composto da poliestere e poliammide, che si presenta così, in rocche da 200 grammi per una lunghezza di circa 280 metri. Il diametro del filato è di circa 2 mm, per il quale infatti consigliamo l'uncinetto 3-4. È un filato che è davvero degno di portare il nome che appunto gli è stato dato. E ha dei colori davvero meravigliosi che andremo tutti quanti ad analizzare nel dettaglio proprio adesso. Vediamo i primi 5 colori. Allora qui abbiamo il bordeaux, il nocciola, il becco d'oca, il sole e il rame. Qui invece andiamo decisamente su toni fluo, infatti abbiamo il fluo verde, il fluo giallo, il fluo arancio, il fluo fucsia e il tiffany. E qui invece andiamo su toni decisamente pastello, infatti abbiamo un bel carta da zucchero, nuvola, glicine, cipria e beige. Qui invece abbiamo il petrolio, grigio denim, argento, grigio e grigio medio. Qui abbiamo toni decisamente più scuri, vale a dire il classico nero, l'avion, il bluette, blu marine e viola. E concludiamo decisamente in bellezza, vale a dire con il militare, verde, bianco, rosso e castagna. Quante varianti di colore ci presenta questo tie sublime? Davvero tantissime. Poi oltretutto è un filato con il quale potrete realizzare davvero tantissime creazioni, che possono essere borse di ogni forma o dimensione, complementi d'arredo, accessori. Davvero vi consentirà di realizzare tantissime cose, tantissime cose nuove, tantissime idee da poter mettere in atto. È un filato poi oltretutto così confortevole, morbido, con una lavorabilità così piacevole, che davvero non lo lascerete più andare una volta provato. Le cose da poter realizzare sono tantissime. Può essere ad esempio anche mixato con il tie sublime Lux, quindi la sua variante proprio con l'aggiunta di Lurex, come è stato proprio utilizzato all'interno della borsa marocco proprio della Fata Tutto Fare, in cui è utilizzato il tie sublime carta da zucchero e il tie sublime beige, una variante di colore mixata perfettamente. Oppure ci sono anche tanti altri tutorial, quale ad esempio la borsa Salomol, in cui vediamo un tie sublime militare lavorato questa volta a rete, con una borsa in juta come sottofondo. O ancora, perché no, la Sicily, perché il tie sublime si presta perfettamente anche per la tecnica Bargello e quindi da utilizzare perfettamente anche con le reti, quale potrebbe essere ad esempio la rete Canvas. Un filato che credetemi non lascerete più andare e come abbiamo detto da sempre presente per tutti questi motivi nel nostro catalogo Tessiland, quindi come abbiamo detto un classico senza tempo. Vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale YouTube e attivate la campanella. Al prossimo, ciao! Al prossimo, ciao!